Eliminare le quote sulla produzione agricola, zootecnica e pesca perché il nostro territorio è stato trasformato in mercato di consumo di prodotti che provengono da paesi terzi e hanno fatto saltare completamente il nostro sistema. E' ovvio che questo vale anche per quanto riguarda la Bolkestein che metterà sull'astrico i balneari perché verranno gruppi internazionali a prendersi le concessioni e lo stesso vale per quello che è il commercio ambulante che è stato erroneamente equiparato nella Bolkestein alla stessa situazione dei terreni demaniali. Quindi bisogna fermare questa Europa liberticita. Parliamo del settore pesca, le quote tonno, se ne sta parlando proprio adesso proprio perché c'è l'attenzione. Lei chiede se è fatto. Siamo qui a una supercazzola che onestamente abbiamo contestato anche al Ministro e quello che ovviamente fa rabbia è che in una competizione elettorale proprio alla vigilia delle elezioni si continuano a tirare in ballo situazioni per le quali si sa che a Monte c'è un problema, quello di aver scambiato le nostre produzioni con altri contesti e con altri segmenti dell'economia italiana che ormai non ci sono più perché quando abbiamo barattato nell'entrata in Europa la nostra produzione agricola con quella che era la produzione industriale assistita dallo Stato, naturalmente ora non c'è rimasta né la produzione industriale ma intanto sull'astrico che è andato sia la pesca sia l'agricoltura.